Primo marzo e 12 marzo. Il Comune di Pescara ricorderà la morte e la nascita del VAT attraverso iniziative davvero molto importanti. Ne parliamo con l'ideatrice del progetto, Franca Minucci. Sì, senz'altro. Sì, un grande evento, grandi eventi per questo mese. Non a caso tutto il progetto si intitola Fare festa, perché in qualche modo è un modo di incontrarsi, di stare insieme, di tornare anche in certi casi a sorridere, ma comunque a vivere le esperienze che sono state vissute in quel marzo. Il marzo è stato un mese sempre molto importante per D'Annunzio. Come sappiamo tutti, nasce a marzo, muore a marzo, ma marzo è anche il momento della figlia di Iorio, della prima nazionale e di tantissimi altri momenti importanti che ricorderemo. Allora, iniziamo adesso con questo primo marzo con una serie di iniziative molto interessanti. Non soltanto la presentazione del libro che si occupa di Franco di Tizio, che si occupa degli ultimi giorni di vita di D'Annunzio, raccontandoceli momento per momento, ora per ora, anche per togliere di mezzo tanti dubbi, a volte tante incertezze e anche tanta confusione che a volte si fa intorno alla stessa morte del poeta. Quindi questo è un momento anche molto importante, quello della presentazione del libro. Poi c'è un momento straordinario che io ho affidato alla curatela del dottor Stoppa, Francesco Stoppa, dell'Università, quindi di Chieti, per la ricostruzione, diciamo, drammatizzata di quella che è stata e che è stata da sempre la nostra modalità di elaborare un lutto, cioè affidato alla lamentazio e al consolo. C'è questa partecipazione così corale del popolo che si lamenta, che piange, la morte di qualcuno in questo caso. Quindi torniamo a sentire il lamento della terra di Abruzzo per il suo grande poeta. Ecco, questo sarà un momento veramente alto, da un punto di vista sia culturale che artistico, insomma. Quindi è un grande evento quello di questa sera, quello del primo. Tutto questo a casa d'annuncio, a Pescara, ingresso libero? Tutto questo a casa d'annuncio, a Pescara, certamente ingresso libero, questo si deve poi al Museo, a Casa Museo, si deve all'assessorato della cultura che ha fortemente, devo ribadire, fortemente voluto questo progetto, che lo ha sostenuto, diciamo, da vari punti di vista e che se ne è assolutamente, diciamo, fatto carico e quindi do la parola sicuramente all'assessore della cultura che vedo qui arrivata.